Musica Arrestati dai carabinieri due uomini di Paterno e Biancavilla per espiazione pena. I reati commessi sono furto e rapina aggravata. Ieri sera al teatro La Fenice di Biancavilla il concerto di Natale dell'orchestra della scuola Sturzo, provata dai doppi turni. L'amministrazione diserta l'invito. Premiazione ed inaugurazione della mostra fotografica sulla festa di Santa Lucia ieri a Belpasso. Tre, le immagini scelte, tradizione, elaborazione e web. Campionati siciliani di calcio fermi per la pausa natalizia. Biancavilla festa anticipata per il titolo di campione d'inverno. A rientro c'è già il Camaro. Martedì 20 dicembre 2018, buonasera dalla redazione di IV24 Notizie. Ennesimo rogo di spazzatura ieri sera nell'accumulo abusivo di rifiuti che ormai da anni caratterizza la scarpata antistante le case popolari di via Cusmano di Alcara-Lifusi ad Adrano. Ad andare in fumo una grande quantità di immondizia che ha richiesto l'intervento di diversi uomini e mezzi dei vigili del fuoco. A prendere fuoco appunto per causa ancora tutta da accertare, oltre ai sacchetti di immondizia, ancora una volta copertoni di automobili, elettrodomestici e mobili di vario tipo. Il fumo acre ha invaso diversi quartieri della zona bassa del paese, rendendo l'aria irrespirabile fino a questa mattina. Due arresti sono stati eseguiti dai carabinieri di Paternò e Biancavilla su disposizione del Tribunale di Catania nei confronti di altrettanti soggetti che dovranno espiare la propria pena in carcere. Sentiamone di più nel servizio. Due arresti per esecuzione pena sono stati portati a compimento dagli uomini dell'arma che svolgono attività nel territorio di competenza della compagnia di Paternò. Il primo fermo è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Paternò che hanno condotto al carcere di Piazza Lanza il 35enne Daniel Pappalardo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Etneo. L'uomo, già condannato dai giudici per furto aggravato commesso a Paternò il 25 luglio 2016, dovrà scontare la pena equivalente ad un anno, tre mesi e dodici giorni di reclusione. Un secondo arresto è stato operato dai carabinieri della stazione di Biancavilla che ha condotto, sembra al carcere di Piazza Lanza, il 46enne biancavillese Francesco Spataro in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catania. L'uomo, già condannato dai giudici etnei per rapina aggravata commessa a Catania il 13 giugno 2007, dovrà scontare la pena equivalente ad otto anni e dieci mesi di reclusione. Rientra la protesta dei netturbini di Paternò che nei giorni scorsi avevano inscenato un sit-in all'interno del palazzo di città chiedendo di poter incontrare il primo cittadino paternese Nino Naso per il mancato pagamento delle spettanze. La ditta ha infatti informato oggi i propri dipendenti che tra oggi e domani procederà con il pagamento degli stipendi del mese di novembre, così da garantire una maggiore serenità ai lavoratori, soprattutto in vista del periodo natalizio. Alla base delle lamentere degli operatori ecologici dei giorni passati, i ritardi delle retribuzioni. Il primo cittadino di Belpasso, Daniele Motta, ha lanciato nella giornata di oggi l'ennesimo appello affinché vengano riaccesi i riflettori sulla scomparsa di Nunzio Marletta, detto Nuccio. L'uomo ha fatto perdere le proprie tracce il 27 giugno del 2017, mentre si trovava ricoverato nella comunità terapeutico-riabilitativa La Grazia di Caltagirone. La città prova amarezza e sconforto e chiede che le autorità insistano nelle ricerche per far luce sull'accaduto e soprattutto nella speranza di ritrovare Nuccio, ha detto il sindaco. L'uomo ha 55 anni ed è alto circa 1,75 m e tra i segni particolari mostra la deviazione del setto nasale. Sono certo che le forze dell'ordine stiano lavorando al caso, tuttavia chiedo uno sforzo ulteriore anche da parte dei cittadini e ricordo che qualsiasi indizio, notizia o elemento potrebbe essere utile al suo ritrovamento, ha concluso il sindaco della città. Concerto di Natale ieri sera al Teatro La Fenice di Biancavilla per gli studenti della Scuola Media Sturzo, provata dagli eventi naturali di ottobre, che hanno determinato l'inagibilità del plesso di Via Colombo. Nonostante le difficoltà, la Sturzo c'è, ha dichiarato la dirigente Giuseppina Furneri. Sentiamo Maria Grazia Castro. Un concerto di Natale colmo di grande significato, quello proposto ieri sera al Teatro La Fenice di Biancavilla dall'orchestra sinfonica della Scuola Secondare di Primo Grado Luigi Sturzo, diretta dal maestro Salvatore Coniglio. Una manifestazione di fine anno in cui si è colta pienamente la difficoltà in cui si trova la scuola, sfrattata dalla propria sede dal terremoto e costretta ai turni pomeridiani in un'altra istituzione. Ma proprio dalle difficoltà nasce la voglia di reagire e di stare insieme, che ieri l'intera scuola ha mostrato nel corso della serata. I brani musicali proposti sono stati alternati alle declamazioni di poesie su temi natalizi, scritti e interpretati dagli studenti. Sull'ultimo brano, Jingle Bell Rock, il maestro Coniglio ha coinvolto il pubblico, invitando ad accompagnare l'orchestra con il battito delle mani. Alla fine è stata la dirigente Giuseppina Furneri a manifestare il proprio dispiacere per i disagi che la scuola sta vivendo. Dispiacere ha cresciuto dal fatto che le autorità locali, seppur invitate, non hanno avuto la sensibilità di essere presenti allo spettacolo. Con tutte le difficoltà che ci sono, la Sturzo c'è stata, c'è e ci sarà sempre, ha detto la dirigente. Preside, la Sturzo ha dimostrato ancora una volta di essere forte, ma soprattutto presente anche quest'anno il concerto di Natale. Ebbè, ci è voluta tanta volontà, tanta forza e tanta voglia di esserci, però devo ringraziare molto i miei docenti, perché l'hanno voluto loro, soprattutto. E poi io devo dire che sono rimasta stupefatta dei miei alunni di prima, del primo anno, perché hanno appena iniziato lo strumento, ma sono stati bravissimi, quindi la Sturzo c'è. Nonostante tutto, il terremoto c'è. Sono stati consegnati questa mattina dal prefetto di Catania Claudio San Martino all'interno del Palazzo della Prefettura le onorificenze degli ordini di merito della Repubblica Italiana. Tra gli undici premiati anche ladranita Nicolò Moschitta, maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza dei carabinieri in quescenza, che ha ricevuto il riconoscimento di cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica Italiana. L'onorificenza è stata concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella attraverso un proprio decreto del 2 giugno scorso. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, un piccolo sostegno per andare avanti. Queste le parole e l'appello della mamma di Chiara, una bimba di 12 anni di Adrano attualmente ricoverata all'ospedale Gaslini di Genova. A maggio Chiara mostrava difficoltà a parlare ed in ospedale, dopo gli esami necessari, è stato diagnosticato un glioma al tronco encefalo, un tumore in una parte del cervello in cui sono contenuti centri nervosi indispensabili per la sopravvivenza. Affinché la famiglia possa fronteggiare le spese, è stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFoundMe, che in pochi giorni ha raggiunto la cifra di 1.500 euro, grazie alla solidarietà di 80 persone. Per donare basta accedere al sito e cercare un aiuto per Chiara. Sia per Taglieri a Palazzo Magrì di Belpasso, con la cerimonia di premiazione, la mostra concorso fotografica su Santa Lucia. Le immagini di 25 fotografi sono state realizzate nel corso delle recenti festività patronali. L'allestimento è visitabile sino al 6 di gennaio. Sentiamone di più nel servizio di Maria Chiara Germenà. Successo a Belpasso per l'ottava edizione del concorso fotografico dedicato alla padrona Santa Lucia, svoltosi ieri sera a Palazzo Magrì, su iniziativa dell'Associazione Culturale Pensiero Libero, che ha rinnovato il consueto appuntamento con la tradizione, la fede e la fotografia. Tanti visitatori della mostra e tanti anche i partecipanti. Ben 25. A comporre la giuria Gino Asero, componente del Circolo Cittadino Santa Lucia, Pietro Ladelfa, fotografo, ed Erika Motta, studentessa di design e di arti visive. Tre i vincitori, ovvero uno per ogni categoria, ma solamente due di questi sono stati scelti dai membri della giuria. Il vincitore dello scatto web è stato scelto tramite il profilo Facebook dell'Associazione. È stato il popolo social a decidere lo scatto vincente, ovvero l'immagine che ha totalizzato più like. Ancora una volta la vincitrice è stata Lucia Guerrera, che con ben 504 like ha raggiunto il massimo consenso con la foto dal titolo Luce che Illumina e Protegge, seguita subito dopo da Beatrice Floresta con un foco Pillamuri di Lucia, che ha collezionato 347 like. Le restanti due categorie, la tradizionale e l'elaborata, sono state esposte in una delle stanze del Palazzo Magri. Ogni immagine conteneva nome del concorrente e titolo, accuratamente scelto dal partecipante a racchiudere e spiegare con parole semplici lo scatto e l'intenzione comunicativa. Il vincitore della categoria tradizionale è stato Gabriele Amodeo, con Abrazzi di Lucelu, raffigurante il simulacro della Vergine Lucia in processione per le vie belpassesi. Vincitore della categoria elaborata è stato Salvo Finocchiaro, che nel catturare un bambino con addosso il saio utilizzato durante le processioni dai fedeli, ha conquistato il cuore dei giurati. Il titolo del suo scatto in bianco e nero è La Sacralità dello Stupore. Il tutto è stato aglietato ed accompagnato dal corretto Magnificat della parrocchia di Sant'Antonio Abbate, che ha intonato un canto in onore della patrona. Alla fine della premiazione sono state consegnate le pergamene di partecipazione e di ringraziamento a tutti i concorrenti da parte della Presidente dell'Associazione, Chiara Puleo, insieme al Vice Presidente Gabriel Maiorana e a Francesca D'Angelo, che ha presentato il concorso. La mostra fotografica, a differenza degli altri anni, sarà visitabile fino al 6 gennaio, in corrispondenza con la fine della mostra iconografica Divina Luce, organizzata dal Circolo Cittadino Santa Lucia e allestita anch'essa nei locali del Palazzo Magri. Si terrà a partire dalle 17 di domani alla Villa Comunale di Adrano l'evento L'Albero Umano, promosso dall'amministrazione comunale e dagli assessorati allo sport, turismo e spettacolo e dalla solidarietà sociale. L'iniziativa coinvolgerà tutti gli studenti delle scuole di Adrano, di ogni ordine e grado, nella realizzazione di un grande albero di Natale umano, che sarà illuminato dalle torce dei cellulari. Tante le attività previste, tra cui anche due canzoni segnate in lingua dei segni italiana, eseguita dagli studenti del primo Circolo Sante Giuffrida e dagli utenti dell'Associazione AFAE. Si terrà domenica prossima in Piazza Roma a Biancavilla il Natale di Solidarietà, l'iniziativa delle associazioni Sinergie e Simmachia, coinvolte anche l'Avis di Biancavilla e l'Admo, ovvero l'Associazione Donatori Midollo Osseo di Catania. A partire dalle ore 8 sarà attiva l'Autoemoteca dell'Avis per la donazione di sangue. Insieme l'Admo sarà presente il vice responsabile di Catania, Giuseppe Petralia, che proporrà alcune delle attività solidali avviate dai donatori di Midollo Osseo. Ci sarà anche Carmelo Greco, il 26enne di Biancavilla, che nelle scorse settimane ha lanciato una campagna di Grofounding per la ricerca di un tumore raro legato all'apparato digerente. La giornata si concluderà con la classica nuvera, il tradizionale canto in dialetto siciliano in vista del Natale, curata dai ragazzi dell'oratorio Don Pino Puglisi. E siamo al calcio, riprenderà nel primo weekend di gennaio il campionato di eccellenza siciliano Girone B. Nella scorsa settimana, quindi l'ultimo weekend, in trasferte il Biancavilla ha guantato il primato seppur condiviso con Marina di Ragusa e Camaro. Questo pomeriggio Pietro Nicosia ha ascoltato il centrocampista del Biancavilla Angelo Strano ed il mister giallo-blu Francesco Di Gaeta. Si è coronata l'ultima giornata del Girone di Andata, la lunga rincorsa del Biancavilla verso la vetta del Girone B di Eccellenza. Con la vittoria sul terreno di Mascaluccia contro il Sempio Catania, il Biancavilla, approfittando anche della sconfitta del Palazzolo, agguanta la vetta e il titolo di campione d'inverno in condominio con il Camaro e il Marina di Ragusa. È stato un Girone di Andata molto difficile che comunque ci ha visto sempre tra le prime posizioni. Ora questa ultima partita ci ha regalato appunto la terza della classifica. Cosa ci vorrà per tenerla? Dobbiamo essere concentrati come adesso e lottare ogni partita come se fosse una finale e poi un po' di fortuna, tanta fortuna. Voi ve l'aspettavate di concludere con il titolo di campione d'inverno? Aspettavamo no, però ci speravamo e poi man mano che abbiamo visto che si poteva fare ci abbiamo creduto. Una promessa ai tifosi? Promettiamo di onorare sempre la maglia. Mister si corona all'ultima di andata la lunga rincorsa del Biancavilla. Se l'aspettava? Personalmente sì. Lo sapevo che avrei preso una squadra comunque che poteva fare bene e arrivare a questo punto della stagione in questa posizione. Il difficile viene adesso mantenerla questa testa? Sì, 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 no, ma intanto abbiamo un piccolo vantaggio sulle altre squadre che in questo momento sono più accreditate. Quindi ci troviamo lì e consapevoli del fatto che fino alla fine possiamo benissimo tranquillamente mantenere questa posizione. Quindi è ovvio che dovremmo lavorare giornata dopo giornata, settimana dopo settimana, e cercare soprattutto con la testa di essere pronti e preparati a tutto ciò. Adesso la prima gara già vi oppone a un'altra squadra che in condominio condivide questa posizione in classifica, il Camaro. Sì, 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 sì. Sinceramente sono contento che cada proprio alla ripresa. In teoria contro queste squadre quindi in questo momento siamo a pari punti e penso che la partita si prepari da sé. Poi è ovvio che in campo la dobbiamo preparare dal punto di vista tattico e tecnico. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete rivedere questa edizione di IV24 Notizie sui siti ivtv.com e dv24.iv. Per ogni segnalazione potete contattarci ai recapiti che vedete in sovraimpressione. Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del comprensorio vi consigliamo di seguire IVTV sui principali canali social. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata con i programmi di IVTV.